Proprio oggi un nostro ebook, un ebook di Simonelli Editore su ebooks Italia riceve un premio. Infatti il professor Giovanni delle Donne viene premiato con la medaglia del Presidente della Camera per il suo ebook Cara Italia, uscito in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Viene premiato nell'ambito del premio lunigiana 5 terre. Oggi, 24 novembre, tanti auguri al professor delle Donne e se volete conoscere tutta la storia d'Italia dalle origini sino ad oggi, sino all'era Berlusconi appena finita, comprate Cara Italia di Giovanni delle Donne. Grazie a tutti.